Sei alla ricerca di un'attività stimolante in un settore di crescita con ottimi guadagni? Canal Italia, azienda leader nel settore radio-televisivo, ricerca agenti per lo sviluppo della propria rete commerciale. Offriamo contratto in azarco, contributi nella fase di start-up, premi al raggiungimento degli obiettivi, formazione continua. Con Canal Italia le possibilità di crescita sono davvero concrete. Gli interessati possono inviare il curriculum corredato di fotografia all'indirizzo mail selezione-canalitalia.it Tutti i candidati ritenuti idoni saranno contattati per un colloquio.